C'è una preoccupazione anche dal punto di vista del sindacato per quelle che sono non solamente gli ultimi eventi bellici, ma anche quello che c'era prima, quello che da un punto di vista di carenze energetiche, carenze di materie prime, sta interessando tutto il distretto. E da parte vostra si lancia un appello perché insieme si possa parlare, ci si possa sedere ad un tavolo e parlare di crescita. Sì, l'idea della CGL è quella di provare a anticipare gli eventi, provare a capire insieme agli altri attori che sono su questo territorio, quello che sarà lo sviluppo di questo territorio, insieme trovare le giuste soluzioni per evitare che, come dire, decisioni e introduzione di nuova tecnologia possa in qualche maniera avere come elemento di difficoltà il fatto di avere maggiori disoccupati. Perché noi siamo convinti che nei prossimi anni ci sarà sicuramente un'innovazione sia di processo che di prodotto e quando c'è un'innovazione di processo e di prodotto o si trovano subito le giuste compensazioni o il saldo, normalmente un saldo negativo per i livelli occupazionali. Questo va coniugato anche con l'attrattività del territorio e quindi la richiesta nei confronti delle istituzioni locali è quello di ragionare di attrattività del territorio sia nei confronti delle imprese che devono continuare di investire sul territorio ma anche nei confronti dei lavoratori che debbono venire in questo territorio a lavorare. Perché avere la condizione attuale dove si lavora a 1200-1300 euro al mese e si paga 600-700 euro di affitto questo crea anche una non-attrattività da parte dei lavoratori a venire in questo territorio. Si è detto già da qualche anno, da almeno un triennio, che i problemi lavorativi potrebbero essere di occupazione potrebbero essere limitati perché meno di quanti ce ne sono non potranno essercene anche con delle novità tecnologiche importanti questo lo diceva Conviduzza Ceramica qualche tempo fa. Stanno cambiando le cose secondo te? Secondo me quando si cambiano e si introduce tecnologia io non credo che le imprese introducono tecnologia per fare meno pezzi con più gente. Normalmente la tecnologia viene introdotta, l'innovazione viene introdotta per fare più pezzi con meno gente. Questa è la storia che ce l'insegna. Quindi mi fa piacere se loro oggi ci dicono queste robe ma ho l'impressione che non sarà così. Perché le imprese fanno investimenti per abbattere il costo per l'unità di prodotto e questo vuole dire fare più pezzi con meno costo del lavoro quindi con meno personale. Quindi sarà bene ragionare da subito perché si trovino le soluzioni attraverso la formazione attraverso nuovi settori, attraverso nuovi investimenti che possano in qualche maniera assorbire quello che da qualche altra parte noi sostanzialmente andremo a perdere con l'introduzione della tecnologia. Cioè la storia di questo territorio, se guardiamo anche la storia delle ceramiche di questo territorio ci dicono queste. Vent'anni fa le ceramiche avevano un numero di dipendenti 4-5 volte, quello di oggi il numero di metri quadrati di mattonello non è che sia tanto cambiato. Per quanto riguarda invece l'attrattività e la vivibilità di questo territorio si chiama come partner anche la parte delle istituzioni. Sì, noi abbiamo fatto una ricerca che ci dice che dal 2016 al 2020 i redditi dei cittadini del distretto ceramico non è aumentato e nel 2022 i stessi cittadini dovranno fare i conti con un'inflazione al netto degli ultimi avvenimenti dell'Ucraina intorno a un 4-5%. Questo vorrà dire sostanzialmente un maggior bisogno di aiuti per tutte quelle famiglie che non saranno in grado di poter rispondere a tutti gli impegni a partire dalle bollette e non solo dalle bollette perché noi ci fossilizziamo sulle bollette ma il problema è molto più ampio quando parliamo di costo della vita e mantenimento del potere d'acquisto. Quindi la seconda gamba del progetto è proprio quello di ragionare insieme, nell'immediato insieme alle istituzioni locali per capire che cose i bilanci dei loro comuni hanno messo a disposizione per fare sì che un maggior numero di famiglie perché se i salari rimangono fermi e l'inflazione aumenta il saldo sarà che maggiori famiglie scivoleranno sotto la soglia di povertà e quindi avranno bisogno di maggiori aiuti e l'unico che possono dare gli aiuti sono le istituzioni comuni in primis e quindi l'altro ragionamento è proprio quello, capire insieme ai comuni che cosa fare nell'immediato perché il progetto industriale è un po' più a lungo termine ma nell'immediato, nei prossimi giorni, cosa fare per dare una risposta a tutte quelle famiglie che purtroppo nel combinato disposto tra salari fermi e inflazione che esplode non saranno in grado di poter rispondere a tutti gli impegni. Tu hai parlato di prossimi giorni, ci sono già delle date ipotizzabili per i primi incontri? No, date non ce ne sono, stiamo cominciando a lacciare i rapporti quindi mi auguro che nell'arco di qualche settimana si possano cominciare a fare gli incontri per ragionare soprattutto del piano sullo sviluppo del territorio. Su quello che riguarda invece la questione riguardante la vivibilità del territorio io penso che i comuni debbano cominciare da subito, ancora prima di fare gli incontri con noi a mettere a disposizione risorse che possano in qualche maniera andare incontro a questa situazione. Grazie.